vabbè scherzando hello everybody come state io tutto bene voi credo che starete bene perché oggi una bella giornata tra sei giorni e ferro agosto e io mi voglio voglio essere elegante questi sei giorni questi sono cinque questi sono sei io avete capito colori che farmi ma che dicono tutti e quindi volevo farvi vedere come si fa un tipo di unghia allora ti serviranno fucsia smalto smalto rosa carne scusate che c'è mia nonna vabbè nonna è rumen e quindi non la capite allora e poi vi serve acetone e salvietine che non so come si chiamano però quelle cose che servono che si mette l'acetone e poi sulle unghia e mettiamo tutto di qua ok e adesso vi faccio vedere come si fa allora prendete il rosa non usate ne tanto e vi andate a fare l'indice e l'indice e l'anulare di fucsia prima unghia fatta tocca la seconda guardate che bella ok e tanto vi racconterò quali sono i miei colori preferiti allora il fucsia cominciamolo il fucsia io adoravo il fucsia è stato il mio secondo colore preferito e ogni giorno io volevo vestirmi rosa matrimoni feste cerimonie a tutto voglio mettermi il rossetto rosa ma i miei genitori non mi lasciavano lo adoravo l'indice e come posso dirvi e avevo questa fissa di vestirmi sempre il cerchietto rosa ma l'indice rosa la gonna rosa che ce l'ho pure adesso che bellissima non piace troppo poi c'è questo coso che sempre non lo so quindi facciamo e non c'è più e adesso lasciamo asciugare il tutto a topo ok ragazzi sono passati 5 minuti e le mie unghie sono ancora intatte quasi tutte intatte guardate ok ecco le mie unghie la prima passata adesso prendiamo il rosa carne e tanto vi racconto il mio primo colore preferito io adoravo il verde il verde il verde è il colore preferito di lui ma io non conoscevo ancora lui perchè ero piccola e non guardavo sticcoli su lui e Sofì sono dei come posso dirvi degli youtubers molto famosi e vi invito a seguirli e mettete 100.000 like a loro un miliardo arrivati a 5 milioni di iscritti perchè il team trote deve andare avanti mettete like al video se se vi è piaciuto il mio discorso leggere se buonanotte ehm convincente e e niente mi piaceva il verde perchè mi piaceva il verde cioè mi piaceva il verde perchè perchè era bello vabbè perchè vabbè anche adesso mi piace il verde ma non così tanto eh allora scusate se guardo in su ma ho tipo uno specchio forse voi non lo vedete ma eccolo dove stai? eccolo eccolo qui il mio specchio lì guardatemi guardate la telecamera ciao 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 e vabbè ehm non ho ancora capito perchè mi piaceva il verde però vabbè sia chiaro che spero che il video vi sia piaciuto sto scherzando e vabbè mi è caduto il telefono e mi si è rotto io stavo parlando del verde insomma ehm insomma non ho capito ancora poi adesso io amo signore e signori ragazzi e ragazze figli figlie io amo il giallo il giallo il giallo il giallo perchè mi cade il telefonaccio ora perchè amo il giallo il giallo proprio il giallo perchè ragazzi il giallo è il colore preferito il giallo allora mettete 100.000 like e io mi verserò una bottiglia d'acqua in testa ma non quella del bagno quella lì da bere frizzante quindi arriviamo a 10.000 like e io farò questa cosa e se arriviamo a 10 se arriviamo a 20 iscritti farò da stupacca bunica ea xavi banicela ti ha dato tanta muscala dentro bene della bunca ciao 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 lucia mia ciao frumosa mia la mia assistente mi fa le unghie perchè le mie unghie sono preziosi guardate che bella guarda pure qua ci ho provato ma qui mi è venuto un prank e adesso prendiamo l'acetone lo sbattiamo e la salto apriamolo ok bene ok adesso vediamo un giorno e l'acetone versato e l'acetone e l'acetone avrò e l'acetone e l'acetone e l'acetone e l'acetone e l'acetone dovrebbe rimanere così scusate me è arrivata una notifica e vabbè scusate forse si vede non si vede bene ascoltate che vado a mettere a carità il telefono comunque scusate per questo per questa cosa vabbè però ragazzi abbiamo finito guardate delle unghie strabilianti cioè qualche piumetta ma questo succede dopo se vi andate a mettere ghiaccio acqua fritta e bicarbonato mettete così le mani per 10 minuti e vi rimangono quindi spero che il video vi sia piaciuto arriviamo a 10.000 like e mi verserò dell'acqua da bere frizzante sulla testa nei capelli ovviamente e poi se arriviamo a 20 iscritti farò la chubby bunny challenge ok? c'è la bocca che non vi stimo guardate sono il cavo il cavoletto di bruxelles vabbè spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video con la mia